Musica Possiamo dire che la città metropolitana di Torino ha fatto una piccola cosa significativa in questi giorni. I nostri cantonieri hanno tagliato l'erba nei cortili delle nostre scuole. Sì, l'attività di un ente parte dalle cose minime che riguardano la vita dei cittadini. E per questo abbiamo messo in campo subito un piano di interventi sull'edilizia scolastica perché le scuole sono importanti. Siamo all'inizio di un nuovo anno scolastico e noi vogliamo dare ai nostri ragazzi scuole sicure. Per questo abbiamo avviato il piano della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. E per questo anche abbiamo preso questa misura e ringrazio naturalmente i cantonieri che si sono dedicati a questo. che l'apertura dell'anno scolastico avvenisse con tutte le scuole della città metropolitana con l'erba tagliata. Dalle piccole cose si vede se un ente funziona, poi naturalmente dalle piccole cose bisogna salire alle grandi e lo stiamo facendo. Dalle piccole cose si vede se un ente funziona, poi naturalmente dalle piccole cose si vede se un ente funziona.